In via Roma quest'anno non ci sono le classiche bancarelle, chi di voi ha conoscenza appunto della bellissima festa patronale di Recco del 7-8 settembre saprà che qua già dal forse il 6 settembre, ora non mi ricordo esattamente, comunque questa via è piena di bancarelle all'incirca da là dal ponte di ferro dove ero prima, dove iniziano le transenne quelle lassù arancioni di plastica, fino giù in fondo sotto il ponte della stazione, dalla rotonda dove c'è il ponte della stazione, dove di solito vi è posizionato lo stand del quartiere Collodari. Collodari. Grazie a tutti